musica 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 benvenuti da vita in questo nuovo video su project iris nello scorso episodio vi ho fatto vedere questo gioco e oggi andremo a continuare il nostro grattacielo abbiamo posizionato un ufficio che per il momento è vuoto ma i dipendenti a quest'ora stanno dormendo perchè sono che ora è? vediamo sono le 5 quindi è presto qui abbiamo aggiunto un ristorante che ci frutta 90 euro al giorno perfetto e ora ci andiamo a mettere la copieristeria che ci serviva nei servizi che lo troviamo qui servizi per ufficio eccolo qua vediamo? meno 300 euro per costruirlo e poi sono 50 euro al giorno va bene il nostro mino è già partito bravissimo mino ora dato che abbiamo già costruito un ristorante la copieristeria e sono delle spese anzi abbiamo anche la corrente da pagare sono 250 euro in meno al giorno mettiamoci subito un altro ufficio che produce reddito quindi io ne metterò un altro qui ma si anche un altro qua va allora ci mettiamo all'assicurazione no quest'altro cosa ha? questo ci paga 115 e ha bisogno di sperizione ah problem anche questi no vabbè allora facciamo una cosa semplice al primo momento ci mettiamo un altro di questo per fare un po' di reddito per avanzare dai andate andate e producete i soldi i nostri bigomini che ci costruiscono tutto e ci costruiranno davvero di tutto allora sono le 9 il primo la prima tizia si presenta magari arriva anche qualcun altro oh oh c'è gente c'è gente signori guardate i tizi della copieristeria come si muovono a far fotocopie 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 ufficio produttivo davvero allora vediamo come va la situazione soddisfatti perfetto anche lui anche lui e producono soldi direi che va proprio bene mandiamolo a città 2 così ci facciamo un po' di soldi allora incominciamo ad espanderci verso l'alto anzi ancora no ci espandiamo verso il basso perchè per espandersi verso l'alto servono gli ascensori quindi facciamo una cosa del genere per il momento davvero sto notando che c'è tantissimo spazio io ho provato con la modalità quella standard e c'era la metà di questo spazio no anche di meno molto di meno ora sfruttiamo davvero questo spazio dovendo stare attenti anche al budget perchè va eh non sembra sembra che questi spazi costano poco solo 10 euro ma in realtà piano piano vanno allora affitto di ieri 95 ah abbiamo bisogno di un affitto giugno di 1000 euro per ricevere la ricompensa poi stavo avendo no ho sbagliato tasto qui sopra 95 euro oggi ah praticamente ci ha pagato solo lui c'è lui lui e anche il ristorante ci ha pagato che fregatura ci pagheranno domani sicuramente avrete già uscito 40 euro al giorno buono 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 allora corrente come siamo messi il 50% ci sono 5 domande sarebbero 1 2 3 4 ah no 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 solo 5 questi qui di qui sopra allora facciamo così costruiamo altri qualche altro ufficio problem però stavo vedendo che non ci sono più assicurazioni abbiamo bisogno della contabilità per uraniare e serve la il servizio di spedizione incominciamoli a mettere dai anzi vediamo se questo ci paga di più ha bisogno anche del telefono allora ci mettiamo questo per il momento dai uno di questo un altro di questo qui a 115 abbiamo altro abbiamo ancora altre 1 2 3 4 e poi il quinto spazio per la corrente ci serve per metterci si hanno bisogno di corrente va bene un attimo la metto l'ufficio di spedizione si una cosa del genere allora cavi elettricità la mettiamo a tutti perfetto così tutti hanno la corrente e andiamo a vedere andiamo a mettere il servizio per ufficio di spedizione dovrebbe essere questo qui meno 200 euro al giorno e va bene noi noi con questi 4 uffici ce lo dovremmo fare ci pagano 115 già con due uffici di livello superiore era cos'era? la fiscalità? no non è il nome che ho letto prima cosa vuol dire? felice vorrei poter bere un caffè mi dispiace ma ho bisogno di una stella per metterci il bar come faccio? aspettiamo un attimo che i lavori vengono finiti magari ci danno la stella allora per avere la stella ho bisogno di mettere popolazione fino a 20 quindi se arriva 20 persone mi danno una stella ora qui c'è gente si ma non chissà quanta che per caso posso mettere già qualche altro ufficio più importante? vabbè io ce lo metto lo stesso tanto prima o poi ci serviranno ai piazzarli non costa niente c'è un'altra compatibilità ma ha bisogno del telefono ehm poi ci sono gli uffici legali anche che hanno bisogno del telefono ah no 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 aspettate questo qui spedizione e copisteria ah e ce lo mettiamo allora qual'è il problema? vai 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 ehm anche questo perfetto allora dai andiamo dai eh saldo ancora negativo vabbè ma ci stiamo riprendendo il fatto che stiamo facendo spesa allora questo è il motivo per cui è stato negativo ma ci stiamo a rifare dato che quanti uffici abbiamo messo cioè praticamente arriveranno dall'affitto soldi appalati ora quasi quasi la corrente la metto un po' più in là tanto so già che ci servirà ah si dai continuiamo a mettere uffici intanto sono la base al massimo proprio che dovremo diventare ricchi 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 li distruggiamo insomma quando uno è proprietario può fare quel che vuole quel che vuole allora ne metto un altro di questo ma si dai uffici legali ci pagano anche di più era bisogno del telefono cavolo quello non stavo contando eh va bene dai però il telefono ce lo mettiamo di regola ce lo dovrei poter mettere comunque spedizione copristeria per mettere il telefono andiamo sempre in cavi andiamo su telefono e servirebbe uno di questi vabbè in realtà uno di questi già ce l'abbiamo ah non c'è ah cavolo 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 la corrente è vero io ho incominciato a mettere uffici appalate ma non mi sono reso conto che eh abbiamo bisogno di di più corrente eh ci mettiamo uno di questo qua medio dai ora dovrebbe essere risolto il problema per quanto riguarda il telefono ce ne mettiamo uno piccolino di questo qui ok ora il telefono dobbiamo far arrivare a questi qui che stanno da questa parte è un po' uno spreco mettere tutto sto cavolo però come possiamo fare dovrei allargarmi questa zona e non conviene dovrei fare andare gli omini perciò prendo la linea anche se costa davvero un botto ma la faccio arrivare fino qua almeno abbiamo il telefono dappertutto allora abbiamo ricevuto una stella quindi ci posso piazzare il bar finalmente facciamo scorrere il tempo in modo che le cose vanno il tutto viene costruito e ci paga l'affitto tanto adesso siamo in una situazione positiva non importa se il tempo va ma allora ristoranti il bar allora il bar il bar quale ci mettiamo tanto la corrente già arriva a tutti ci mettiamo quello che ci paga di più questo qua caffè aperto per il caffè e colazione perfetto vedete già in costruzione i tizi che girano si muove ah si appunto perché abbiamo messo un ufficio e quindi sono arrivati è arrivata la stella se arriviamo a 40 ce ne danno anche due buonissimo sono arrivati anche i tizi del bar guardate quanti sono simpatici questi tizi il tutto mi sembra che va la situazione dei tizi qua ah non me lo dice più perché se ne stanno andando sono le 6 di pomeriggio e quindi basta come vi stavo per far vedere qui la signorina ci ricorda che per vedere se la gente è felice possiamo cliccare sugli omini ora io non ho fatto interro perché qui se ne sono andati tutti come devo fare clicco sugli unici due che ci sono rimasti adoro il caffè questo è felice vabbè ancora no perché è appena arrivato il caffè peccato che quindi ci sono locali per cenare è vero locali per cenare ora non so se ne posso mettere io provo ci provo allora soldi ce li ho area ristorante aperto per pranzo aperto per pranzo problem non ci possiamo fare niente c'è qualcuno che cena no ovviamente qui c'è un bar allora facciamo così facciamo andare avanti il tempo e vediamo se vi è in qualcuno se qualcuno è interessato a costruire un un negozio più che altro un un ristorante per la cena hai completato l'appalto un concetto da dimostrare il bonifico di 500 euro si è stato effettuato nel tuo conto spettacolo eeeh ancora dici che siamo in negativo ma fa niente lui dice che siamo in positivo quindi io mi fido di lui allora per vedere altri appalti andiamo qui e ci sono delle cose che possiamo fare ad esempio come aumentare la densità dell'ufficio a 50 persone abbiamo altre cose come questo non mi ricordo è quello di guadagnare 3000 non so ci sono delle cose se le superiamo riceviamo dei soldi e non c'è bisogno di farle per tempo voi potete proseguire con il vostro gioco poi ci andate vedete io l'ho fatta questa cosa la prendo e prendo l'appalto e subito mi danno i soldi perchè l'ho già fatto non c'è bisogno di acchiappare l'offerta perchè tanti soldi ve li danno lo stesso non è un problema poi cos'altro ma niente insomma ok sono le sei del mattino e già incomincia ad arrivare qualcuno nel bar che viene a lavorare una signorina vediamo qui se qualcuno vuole venire no ma solo per pranzo è un problem questo è un problem un problem davvero vabbè dai ragazzi la gente sta arrivando un'altra cosa che non vi fate vedere nello scorso episodio almeno che non vi ho detto è che con lo slash a fianco al tasto 1 dove ci sono tutto 1 2 3 togliere tutto tutto ciò che volete potete anche farlo con altri tasti come già ho fatto vedere nel primo gameplay cambiando i tasti appunto quindi ragazzi io spero come al solito che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like se vi è piaciuto iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video da vita è tutto ciao